Illustrato questa mattina a Pescara l'accordo fra Trenitalia S.p.A., la Regione e le Forze dell'Ordine finalizzato all'incremento della sicurezza a bordo dei treni in ambito regionale. L'accordo verrà anche allargato ai mezzi pubblici che circolano nella nostra Regione e dove a bordo potranno salire componenti delle varie Forze dell'Ordine che viaggeranno gratuitamente e potranno intervenire in caso di bisogno e di problemi di ordine pubblico. Più sicurezza sui treni regionali ma non solo sui treni regionali, oggi sottoscriviamo la convenzione con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e con Trenitalia ma il nostro intento è quello di garantire questa sicurezza anche su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, quindi successivamente andremo a perfezionare altre convenzioni con i gestori del trasporto pubblico locale per fare in modo che sui nostri mezzi ci sia più sicurezza e per fare in modo che i cittadini viaggiano sempre di più sui mezzi pubblici nella piena consapevolezza di essere tutelati. Garantiamo a tutti coloro che militano nelle Forze dell'Ordine, nei corpi di guardia costiera e nei vigili del fuoco di poter usufruire gratuitamente del servizio. È chiaro che devono registrarsi in questo caso con Trenitalia attraverso un'app per fare in modo che il conducente sappia che all'interno del mezzo c'è una persona che può intervenire in qualsiasi momento. Già ci siamo mossi in tal senso, il Presidente ha già fatto delle comunicazioni agli enti gestori, ai concessionari delle autostrade. La prossima settimana avremo un incontro con l'ingegner Perna che è il responsabile dell'A14 nel tratto che ci interessa e quindi stiamo andando verso una soluzione del genere a accelerare il più possibile adesso i lavori per poi sospenderli nel periodo di maggior traffico di ferie cercando appunto di liberare il più possibile le corsie. È chiaro che sarebbe importante un intervento più qualificante, cioè quello della terza corsia che stiamo chiedendo più volte a gran voce al Ministero, sperando appunto che questo non ci possa tornare alla situazione dello scorso anno quando sulla stradale 16 soprattutto nel tratto tra Pescara e Giulianova si sono verificati gli inconvenienti drammatici quasi anche con la possibilità di incidenti per i cittadini.